Trovo assurdo che si faccia una polemica contro le parole di Epifani quando dice che la legalità è per noi un principio irrinunciabile e che le sentenze vanno rispettate. Il governo Letta sta facendo bene, ha un programma da realizzare, non è certo il PD che antepone l'interesse generale del Paese a un interesse di parte.